Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui lunedì, post raduno, quindi ho la schiena tutta distrutta Se riesco a metto qualche foto mentre sto parlando Oggi siamo in macchina e non in Yaris, perché la Yaris, come avete visto Dopo l'incidente è andata dal carrozziera, quindi sto aspettando Mi ha detto circa mercoledì che sarà pronta Quindi oggi noi andremo a casa di mio cugino, il quale ha appena comprato lo scarico nuovo Per la sua Yamaha MT-07 Quindi presumo sia una Kravvich, però non sono così convinto Quindi adesso andiamo da lui e vediamo che scarico ha comprato Poi andremo in montaggio e alla prova del sound Quindi ragazzi, ci vediamo tra poco Buon rivolti, questo è lo scarico Marca Rhodes Italia, nome ProJ6 Però ovviamente questi erano sicuri perché a Kravvich domina sempre Adesso smettiamo lo scarico originale e poi vediamo come suona questo scarico Praticami la mia situazione Poso la pedalina perché qua sotto c'è un supporto Adesso tagliamo questo perché qua c'è il connettore della sonda lambda Ragazzi abbiamo appena svitato qualche vite dello scarico Ci sono stati piccoli problemi per staccare la sonda lambda E adesso Adesso Pesa 30 kg Bene, scarico rimosso Adesso Il primo di cilindri con Yamaha Siamo riusciti a montare anche il secondo E anche il terminale Adesso Proveremo il nuovo Sky Ragazzi dopo due ore di montaggio Di arduo montaggio Finalmente siamo riusciti a montare questa barmettina E' stato riusciti a montare questa barmettina non di BKILLER devo spostarlo in alto? in basso bene ragazzi, adesso facciamo un girettino e poi scelutiamo bene ragazzi, prime impressioni di questo scarico il montaggio è stato un po' lunghetto però fa lo stesso diciamo che non eravamo abituati a questa moto quindi ce l'ho messo un po' più di previsto sound ottimo direi adesso non so quanto abbia speso però posso che mandiate nel loro sito e guardiate il prezzo mamma è già gli scoppietti ragazzi, spero che vi sia piaciuto se è così lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale ciao ragazzi ma che cosa ha capito? oh dovevi solo darmi un pugno così capo coglione ciao ciao ciao